È chiaro che l'aspetto salute prevale su tutto il resto, però non dobbiamo sottovalutare che anche gli effetti economici di questo coronavirus saranno rilevanti. Teniamo presente che la domanda cinese si è venuta a rallentare moltissimo e teniamo presente che soprattutto in Italia ne abbiamo delle ricadute terribili. Pensiamo al settore del turismo, sono state disdette le prenotazioni nel settore turistico. Pensiamo a quello che succede per il fashion, la moda. Abbiamo visto che anche a Milano tante manifestazioni non si sono tenute e anche la produzione. Prima sentivo Padova dove i fenomeni si stanno concentrando in modo rilevante, ma se stiamo a vedere bene molte imprese della zona di Padova o del Veneto si stanno fermando perché è legato appunto all'offerta che viene fatta da parte della Cina di prodotti, i cosiddetti fastener, la componentistica, non arriva in Italia. Quindi non arrivando in Italia la produzione si ferma. Quindi l'effetto da monitorare è quello della salute ovviamente, però non dobbiamo sottovalutare le conseguenze sul versante economico. E' conseguenza che se stiamo a quelli che sono gli osservatori internazionali, penso alla Banca Numura, che ha visto le ricadute che questa situazione può generare per l'Italia, si potrà arrivare a una recessione che varierà dallo 0,1 allo 0,9%. Noi già abbiamo una situazione abbastanza grave di crescita economica, se a questo si aggiunge l'effetto coronavirus sarà veramente un disastro. E rischia di diventare veramente drammatico. Vanno valutate con molta attenzione.